io sono barbuto ma non ho la barba benvenuti nel mio primo gameplay in generale non su forniti mio primo gameplay proprio su questo canale ho deciso di provare a giocare su fortnite e far vedere quanto sono scarso gioco fortnite da più o meno cinque giorni e ho iniziato a giocarci perché ho avuto la brillante idea di iniziare a farle dirette su twitch quindi oggi assisterete a barbuto sempre piaciuto che gioca a fortnite su ps4 non voglio perdermi in chiacchiere quindi partiamo subito eccoci qua mamma mia sembro un astronauta con questi cuffioni come prima cosa visto che è uscito il pacchetto di travis scott lo andrò ad acquistare prendo quello da 2500 quello più costoso che c'è che c'è tutto c'è travis scott tatuaggio travis scott neon che ovviamente farà da zainetto poi abbiamo queste skin fighissime mamma mia che belle lo zainetto con il mondo tipo ok acquista pacchetto e ci siamo boom travis scott qua su fortnite barbuto sempre piaciuto con travis scott mamma mia che figata ok avanti avanti riscattiamo tutto ora andiamo ovviamente a creare quello che sarà il personaggio che useremo oggi ovvero travis ci sono due stili questo e questo mettiamo lo stile normale ok poi zainetto ovviamente anche lui è figo però allora zainetto invece mettiamo il mondo ok sarebbe quello di travis scott astro world poi cosa abbia sbloccato il balletto di travis ce l'abbiamo già perché ho completato già tutte le missioni di travis mamma mia che figata raga ho anche lo sfondo di travis ho completato tutte tutte le missioni ci siamo creiamo un nuovo ok questo è il personaggio che useremo oggi andiamo in singolo e facciamo la nostra prima partita questo fortnite e iniziamo alla grande visto che abbiamo la skin di travis scott guardate che figo che figo l'immagine travis scott io sono super fan di travis scott eccolo qua travis scott e lo suo zainetto di astro world non ho fatto in tempo a fare il balletto comunque tra l'altro mi sa che la prima volta che un rapper un trapper anzi un cantante proprio in generale faccia questa collaborazione con fortnite con le skin eccetera comunque io in descrizione vi lascio il nickname di twitch che è giuseppe barbuto è molto easy perché stasera alle 21 farò una diretta su twitch su fortnite ovviamente quindi se vi piace vedermi sclerare quanto sono nabbo venite a seguirmi anche su twitch anche perché sono le prime dirette quindi spesso e volentieri gioco anche con voi quindi giochiamo tutti insieme teniamo su sabbie sudate lì tra l'altro non so se lo vedete quella roba che luccica il palco di travis andiamo lì a cantare lì c'è anche la statua la vedete di astro world allora vabbè a parte i giochini e i giochetti pensiamo a giocare ho fatto un errore secondo me a partire qua perché dato che ci sono le statue di travis scott e per sbloccare le cose che avevo già sbloccato quindi sfondi il ballo di travis eccetera devono una delle missioni a rimbalzare su quelle statue quindi sicuramente ci sarà un botto di gente che verrà invece no non ne vedo l'avranno già fatta tutti apriamo una cassetta una cassona allora siamo vicini anche alla save ottimo ottimo direi lo spadaccino lo spadaccino travis scott eccolo proprio lui berbuto è sempre piaciuto allora sento una cassa eccola ok ok si inizia a ragionare comunque lì c'è scritto prossimo spettacolo perché in teoria non ho capito bene se farà cioè se ci sarà tipo un concerto di travis scott o il suo pezzo in anteprima una cosa del genere oddio sentito sparare niente ci facciamo gli affari nostri sento una cassa eccola qua nella vasca bella lì spacca tutto spadaccino travis scott cos'è successo cos'è successo ma come non mi è mai successa questa roba oggi registro un gameplay abbiamo incontrato un ostacolo ok eccolo lo spadaccino travis scott e prendi prendi tutto prendi spadaccino ok io ho visto spaccarsi un albero ci deve essere un nemico attenzione lo sento eccolo prima kill per barbuto incredibile travis scott proprio lui subito una kill per barbuto sempre piaciuto ok allora sviluppiamo tutto qua siamo anche dentro alla safe incredibile oddio un altro nemico seconda kill per barbuto incredibile proprio lui sembrava un po' ritardato quel tipo oh bella questo possono potenziare le armi non so cosa cercava di fare o non mi ha visto o boh allora devo raccogliere un po' di materiali così poi potenziamo le armi ok oh bella fucile d'assalto lo voglio fucile d'assalto è la mia arma preferita ricarichiamoci ok sento una cassa dov'è sarà di sopra fucile a pompa ci serve vai spacca tutto travis vai lo spadaccino no sono tornati giù ma dove cazzo è sta cassa è qua dentro eccola qua nascosta ah qua dentro c'è un'altra cassa eh attenzione allora io mi andrei a potenziare il cazzo perché ci mancano i mattoni dove riprendi i mattoni ah lì bella c'è una casetta di mattoni spacchiamo tutto ci serve materiale per potenziare lì mi sa che c'è un'altra cassa aspettate aspettate un attimo che lì c'è un'altra cassa attenzione è nascosta tra le tende ok oddio ci sparano da dove non lo so da dove ci sparano da dove ci sparano non lo vedo che ansia che ansia raga allora chiudiamo tutto potenziamo eccolo lì sorpresa terza keeper barbuto incredibile proprio lui mamma mia raga che partitone allora sto facendo un po' di materiale perché vorrei potenziare anche il fucile d'assalto comunque che pettacolo usare Travis Scott su Fortnite è assurdo allora dove era la casetta di mattoni non c'è più la casetta di mattoni io sono sicuro era là no ah eccola lì ci servono 200 mattoni intanto siamo ancora in safe benissimo ok abbiamo i nostri 200 mattoni andiamo a potenziare anche il fucile d'assalto così siamo a appuedo potenziamo potenziamo ok ok allora adesso andiamo un po' in giro siamo rimasti in 17 nel frattempo perfetto ci sparano da dove ci sparano io sono sicuro ci stavano sparando eccolo lì ne ho visto uno ne ho visto uno raga ne ho visto uno gli andiamo addosso sai che sta arrivando oddio oddio sembra forte si 4k per barbuto mamma mia raga arriva qualcuno mamma mia barbuto 5k per barbuto attenzione attenzione barbuto sta arrivando qualcuno lo sento si mamma mia il barbuto wow c'è lo scar bellissimo prendiamo tutto proprio uh fucile a pompa potenzialato tutto proprio prendiamo siamo rimasti in 9 5k per barbuto c'ho il cuore che batte fortissimo questo primo gameplay sembra promettere davvero bene che partita che partita petacolo Travis Scott è fortissimo o il barbuto che è fortissimo io direi dato che abbiamo tutto questo materiale andiamo di nuovo a potenziare ci facciamo lo scar oro damn damn barbuto sempre piaciuto sempre forzuto su fortnite è il campione vai potremmo anche fucile a pompa e poi andiamo che si sta per chiuderla safe dai 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 ok vamos 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 tanto qua abbiamo raccolto delle granate li vedo una cassa perfetto mi servirebbero degli scudini sono bravo a uccidere ma a costruire ancora sono un po' una lagna perfetto veloce 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 allora raga dobbiamo stare molto attenti perchè siamo rimasti in 6 li vedo un'altra cassa perfetto oddio oddio sai qui perchè qua ci sono tutti questi nani raga devo stare attento lo sento metto qua dietro che ansia raga che ansia che ansia sento sparare ah però devo stare attento perchè se mi tiro un bazzucone da sopra che qua mi stanno per uccidere si 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 barbuto si si barbuto si no 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 maledetto 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 Oh raga Mamma mia C'eravamo quasi tanto così Allora raga questa era la mia prima partita Su Fortnite in gameplay qua su Youtube Come vedete gioco da poco Ma Barbuto se la cava Siamo arrivati terzi Era la prima partita in assoluto di oggi Avrò fatto sieno a 10 partite in totale qua su Fortnite Ed è il mio primo gameplay Quindi oltre a giocare devo star dietro a parlare E intrattenere Spero vi sia piaciuto In descrizione vi lascio Twitch Stasera farò una diretta alle O alle 20 e 30 alle 21 Per quell'ora collegatevi Fatemi sapere comunque se vi piace Vedermi giocare anche su Youtube Così oltre alle dirette di Twitch Ogni tanto magari porto qualche gameplay Non l'ho mai fatto però Sapete che a me piace sempre provare cose E poi secondo me è divertentissimo Perché sclero come un matto E sono lì in ansia E nel frattempo sto registrando E nulla Noi ci vediamo domenica con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica Esce un nuovo video Io vi saluto Ciao Comunque siamo arrivati terzi raga Terzi Tanto così mancava